Noi salutiamo i vampiri che ci sono a casa, i licantropi, Morgan Un uomo distrutto, Marco Bengoni Se non è tutto perfetto... Ma invece sei stato bravissimo L'albumerissima, sugarfestivalissima Tagliate punta Ma quante volte la sarà assunta Ma che è passato? Mi hai fatto impaventare Dimmi chi sei, che sei il mio unico grande amore Lui è un tipo, è un tipo Ma tu poi stai diventando, non so, sembri il fantasma dell'opera Dimmi chi so la panina tanto, dimmi chi so la cazzoglio malato Dimmi chi so la cazzoglio malato Dimmi chi so la cazzoglio malato E che villa è la più stella è proprio lei Alessia Marcuzzi Brava Allora scusate, Cinquetta Rai dice Vi prego, non ho lasciato aperto il microfono di un cugino di Campania Di un lamento continuo Chi è che si lamenta continuamente tra voi quattro? Io allungherei il microfono a lui Vabbè, vediamo chi si lamenta Vabbè, comunque l'abbiamo chiarito Allora, abbiamo visto il meglio di quello che è successo questa notte E mi dicono che Rossella Erra ha uno scopo Cioè, Rossella che succede? I più attenti che hanno visto Viva Rai 2 No, praticamente ieri Fiorello durante Viva Rai 2 Leggeva i messaggi che gli arrivavano in diretta sul cellulare E a un certo punto è arrivato un messaggio Che diceva non lo leggere, non mi chiamare E lui l'ha chiamato, era Gianni Morandi Gianni Morandi non ha risposto Perché? Perché stanno tenendo nascosto che giovedì Gianni Morandi è l'ospite di Sanremo Sul palco con Amadeus Attenzione Attenzione Nessuno lo sapeva, caro mio Perché Rossella Erra sa che Gianni Morandi Sarà ospite giovedì sera a Sanremo? Perché ho degli insider Ho insaiato l'impossibile a Sanremo Ma io ne ho anche altre di cose Se è vero, Amadeus mi uccide secondo me Vabbè, che altro sai, scusa Rossella Ma continuiamo così amabilmente Quindi giovedì Gianni Morandi a Sanremo Esclusivo Scusa sapevi anche dell'incursione di Fiorello Perché noi sappiamo che Fiorello appunto è l'ospite dell'ultima puntata Ma ieri non ha resistito ed è salito Ce lo aspettavamo un po' tutti che salisse E sono convinta che salirà anche una volta con la parrucca che ha indossato nella prima puntata lunedì A Amadeus Perché hanno scommesso che gliela avrebbe portata e quindi succederà Adesso fa la leggente anche No! Mi informo Perché lei studia Sì Guilhermo Mariotto Perché Rossella Erra studia E mentre lei studia E si sbacciucchia con tutti Vedi con questa cosa Vabbè quello Ma con te Lavoro e piacere Ma tra voi due non è mai successo niente Dimmi Katia Sì Stai zitto A me piace tantissimo lei quando si insulta ballando Fai bene Va bene ad insultarlo Allora noi davanti alle telecamere Facciamo questo siparietto Ma in realtà Dietro le quinte Giochiamo a darci delle panzate Sì questo è vero Delle Pansate Mi da delle panzate che mi fa malissimo La ribalto Perché facciamo una gara Ti ribalto Mi ribalto Pum E la È il momento di vedere quello che ha fatto Fiorello Ieri sera Grazie davvero alziamo un po' a livello Grazie grazie Il teatro Ariston Ha il suo Aristonello Io posso arrivare a Massimo fino a qua Massimo il fatto è questo Però stasera mi sento strano Non puoi salire No Avevamo una Sai perché le tende piangono? Perché le tende piangono? Perché sono da sole Ma è strano ragazzi Ma chi ha? Ma chi hai? Ma che sei bloccato? Ragazzi sei bloccato Aiutatemi Ah ma scusami Ma chi è? Scusami Ma chi è? Ma scusa 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 Ma Allora Non l'avrei mai fatto Ma ti pare che io Sarei salito sul palco Prima di sabato Eh? Me lo mettete di là? Grazie Grazie Noi abbiamo Noi abbiamo Ethan Torchio Il batterista Che tu sai che non parla Non sei mai sentito parlare Tu hai mai sentito parlare Ethan Torchio? No Ethan no Devo dire mai No no Infatti non parla Usa la batteria Ti piace il festival? Ti piace il festival Ethan? No vabbè dai No Ha detto Ha detto Così 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 No ovviamente La linea A sta gran gol Oh Giori Allora amici Voi Non c'è bisogno Rimanete qua Fino a domani sera